In questo intervento cerchiamo anche di distanziarci un pochino dal rapporto tra boschi, foreste e uomo e vediamo un pochettino l'intervento dei veri abitanti dei boschi e delle foreste, cioè della fauna. Quindi vorrei toccare questi tre argomenti, quindi parlare e accennare a quelle che sono le recenti modificazioni del territorio italiano anche se di alcune cose oggi si è fatta menzione ampiamente. Passare poi all'importanza di mantenere la connettività tra questi ambienti naturali, tra gli ecosistemi e poi qualche esempio dei progetti che nel nostro piccolo cerchiamo di seguire e in questo caso parlo solamente di progetti a livello proprio locale, comunque in Italia e non all'estero. Quindi partendo dai processi e le trasformazioni del territorio italiano diciamo che le dinamiche degli ultimi decenni vedono fortemente presenti tre trend che sono quelli indicati. Una, la progressiva perdita di terreni agricoli. Ci può sembrare molto strano perché l'Italia è sempre stata un paese importante per l'agricoltura la copertura del suolo ad uso agricolo è sempre stata la maggior parte del nostro territorio ma negli ultimi decenni stiamo vedendo invece una continua perdita di questi territori. Gli altri due elementi sono l'aumento delle aree artificiali, ovviamente l'aumento delle città, delle infrastrutture che man mano portano via terreno, ad esempio all'agricoltura e poi questo aumento della superficie forestale di cui abbiamo già ampiamente sentito parlare oggi con l'intervento di Enrico Calvo. Queste tre cose sono strettamente interconnesse e se proviamo ad analizzarle una ad una ovviamente la diminuzione progressiva della superficie che è destinata ad uso agricolo viene progressivamente a diminuire a causa degli altri due fattori che abbiamo menzionato per cui da una parte l'aumento delle aree artificiali e dall'altra l'espansione delle aree boschive che avanzano rispetto ai terreni agricoli, soprattutto ai terreni agricoli di montagna. Per quanto riguarda i terreni agricoli c'è anche un processo non solo di riduzione dei terreni agricoli ma purtroppo anche di estrema trasformazione, infatti c'è una progressiva sostituzione di quello che è il mosaico, di piccoli appezzamenti che vengono gestiti con tipologie di agricoltura estensiva e invece vengono sostituiti con pratiche di meccanizzazione che riguardano un po' tutta la filiera per cui le tecniche di coltivazione, di irrigazione, di fertilizzazione, il tutto per aumentare la resa. Quindi una sostituzione delle culture estensive con quelle di tipo intensivo. Ovviamente con degli effetti anche delle terri che non sono solamente dei rischi ma sono ormai rischi conclamati di perdita di biodiversità relativamente a questo contesto agricolo. E ovviamente questo tipo di agricoltura è anche assolutamente molto più fragile rispetto a tutto il discorso dei cambiamenti climatici di cui ancora abbiamo parlato ampiamente oggi. Giusto per rimanere un attimo in ambito agricolo questa è un'immagine che mette in evidenza come il numero di popolazioni. Io sono una zoologa per cui vi faccio prevalentemente degli esempi che riguardano gli animali. Quindi questo è un grafico che mostra come il numero di popolazioni di uccelli per cui di ave fauna siano criticamente in pericolo a causa di determinate modificazioni. Come vedete le modificazioni dei sistemi naturali e l'agricoltura sono le due principali cause di perdita di minaccia nei confronti delle popolazioni di avifauna. Ma questa è una cosa abbastanza risaputa. La perdita di biodiversità delle specie di avifauna nelle aree agricole è forse uno degli esempi più grandi e ormai conclamati. E parliamo di specie, alcune delle quali magari non così comuni. Qui abbiamo ad esempio il torcicollo, la verla piccola, il re di quaglie, specie che comunque sono abbastanza rare e difficili da osservare. Ma parliamo anche di specie che immagino con cui tutti noi abbiamo dimestichezza, che sono le due più in basso, che sono il passero d'Italia e la passera mattugia. Per cui anche specie molto comuni, che conosciamo tutti, sono criticamente minacciate proprio da queste modificazioni, soprattutto a livello degli ambienti agricoli. Altro argomento è quello della drastica diminuzione delle popolazioni di insetti, di invertebrati, dovuta proprio a questi cambiamenti nel comparto agricolo. Questo è un altro argomento di cui si è sentito parlare tantissimo. E sono usciti tantissimi studi negli ultimi 5-6 anni, proprio sulla diminuzione delle popolazioni di invertebrati. L'altra modificazione di cui volevo parlare era appunto la crescita delle aree artificiali. Soprattutto nella nostra zona, al nord Italia, abbiamo davanti agli occhi continuamente la costruzione di nuove infrastrutture, trasporti, insomma nuove costruzioni, l'espansione dei centri urbani che si sta avanzando sempre di più, ovviamente a discapito dei terreni agricoli. Vabbè, poi altri esempi. Per quanto riguarda l'espansione forestale, possiamo anche andare avanti perché abbiamo sentito una presentazione solo su questo argomento. Ovviamente l'espansione forestale può essere vista da un lato come appunto espansione di una tipologia ambientale, quella appunto della copertura boschiva e di foreste. Qui vedete un esempio di un paesaggio collinare montano, negli anni fotografato, lo stesso versante negli anni 30, negli anni 50 e all'inizio degli anni 90, vedete come progressivamente la copertura va a estendersi sul tutto il territorio. Ovviamente per alcune specie, questo può essere visto come un fattore molto positivo, ad esempio il picchio nero, è una specie che fino a pochi decenni fa era considerato uno dei principali indicatori degli ambienti montani, soprattutto legati alle conifere. Adesso nidifica alle porte di Milano, lo abbiamo nel parco del Ticino. Quindi l'aumento della copertura forestale ha portato sicuramente dei benefici ad alcune specie. Per altre invece è la condizione opposta. Qui abbiamo la coturnice delle Alpi, che è un galliforme alpino, una specie che abita nelle praterie montane di quota, che sono quegli ambienti che, dicevamo, progressivamente vanno a scomparire per l'avanzata del bosco, dovuto ovviamente all'abbandono delle pratiche zootecniche di montagna, alle pratiche culturali estensive, appunto, in zona collinare montana. Quindi per alcune specie è un beneficio, per altre invece è causa di riduzione di abitati idoneo. Oggi si è parlato tanto di espansione forestale, però è forse bene fare dei distinguo. Infatti non tutte le foreste sono in aumento. Se infatti pensiamo ai boschi igrofili, soprattutto ai boschi igrofili planiziali, quelli sono progressivamente in via di riduzione negli ultimi decenni, sempre a discapito, soprattutto in questo caso, dell'occupazione da parte di infrastrutture urbane, o comunque i boschi planiziali che si trovano nella nostra pianura padana, ovviamente vengono piano piano mangiati dall'agricoltura di tipo intensivo. Quindi non tutti i boschi stanno aumentando, alcune di queste tipologie boschive, anzi, hanno grande necessità di essere mantenuti in connessione. Cosa succede quando si perde la copertura di superfici naturali? Le cause le abbiamo viste. Ovviamente c'è una riduzione delle superfici con copertura naturale vegetata. Si creano dei frammenti, cioè le patch di foresta o comunque di copertura vegetale naturale vengono separate e questo può causare l'introduzione di habitat secondari e, insomma, si possono andare a osservare quei fenomeni che vengono definiti, in termini generali, come tutti quei fenomeni di perdita di connettività. Se vedete l'immagine qui alle mie spalle, esemplifica molto bene quello che è chiamato l'effetto margine. Se noi partiamo da una patch di territorio di una certa dimensione e ipotizziamo, ad esempio, la costruzione di un'infrastruttura in mezzo a questa patch di terreno, immaginiamo, di foresta, cosa succede? Che si riduce, ovviamente, la superficie del nucleo centrale, si riduce questa superficie, ovviamente aumenta la porzione di habitat esterno, cioè il margine di questa patch di superficie, con degli effetti sulla fauna che possono essere molto diversi. Ad esempio, la riduzione del nucleo centrale può portare alla, diciamo, insufficienza di dimensioni tali per la vita, per la sopravvivenza di determinate specie che hanno maggiori esigenze. Nell'immagine segnata, ad esempio, l'immagine dell'orso, che in condizioni originarie trova spazi sufficientemente ampi per sopravvivere in questa tipologia di territorio, con l'intervento di questa frammentazione, questa specie viene a mancare. Altri effetti che possono intervenire sono, ad esempio, quella della mancanza di scambio di movimento tra individui all'interno di questi territori che rimangono separati e questo porta progressivamente a una perdita di variabilità genetica che, diciamo, su lungo periodo può portare anche a effetti deleteri come a estinzioni locali delle popolazioni. La presenza di ambienti di margine può, diciamo, favorire l'ingresso di specie aliene. Qui, ad esempio, ho indicato l'esempio dello scoiattolo grigio che sappiamo essere presente anche da noi a Milano in molti parchi e giardini, così come in molte aree dell'Italia settentrionale. Quindi, una serie di effetti che, impensabili, diciamo, ha una prima ipotesi. Che cosa succede ulteriormente? Se avvengono delle estinzioni locali, iniziano a perdersi, iniziamo a perdere alcune specie, per cui una diminuzione della ricchezza specifica. La diminuzione della ricchezza specifica porta necessariamente a un'alterazione delle comunità, cioè un'alterazione di quegli equilibri che naturalmente esistono tra specie diverse e, di conseguenza, una perdita della funzionalità degli ecosistemi. Quindi, la cosa importante è cercare di mantenere comunque una connessione tra queste diverse patch, anche se intervengono degli interventi di frammentazione, anche se siamo di fronte a frammentazione, è necessario mantenere collegamento, mantenere in rete questi diversi elementi. Quindi diventa assolutamente importante il ruolo delle cosiddette connessioni ecologiche, cioè dei corridoi di quegli elementi, anche spaziali, che riescono a mettere in collegamento patch di, immaginiamo, di foresta, ma possono essere di qualsiasi tipologia ambientale, ovviamente. Ovviamente mantenere in rete le diverse patch può non essere una cosa immediata, perché ovviamente le reti ecologiche sono diverse a seconda della specie a cui noi facciamo riferimento. Ovviamente è diverso pensare a una connessione ecologica per un cervo rispetto a una connessione per un piccolo invertebrato, per un insetto, perché specie diverse hanno caratteristiche ecologiche, abitudini, possibilità di spostamento, capacità di spostamento differenti. Quindi quando pensiamo anche a interventi pratici di defragmentazione, dobbiamo avere presente anche per chi noi pensiamo questa tipologia di interventi. Sicuramente un concetto molto importante è quello della permeabilità dei corridoi. I corridoi non sono uguali per tutti. Dobbiamo sempre avere presente le capacità di spostamento degli animali, dei gruppi animali, delle specie target, perché poi non possiamo considerarle, diciamo, tutte nella loro complessità. Infatti corridoi per alcuni animali possono invece costituire delle barriere per altri animali. Qui vedete alcuni esempi delle capacità di dispersione di animali che possono vivere naturalmente nella stessa tipologia di ambiente. Per cui ci sono animali che si muovono di poche centinaia di metri, da piccoli invertebrati, ma anche a dei mammiferi. Lì avete nell'immagine del Moscardino, un piccolo gliride che abita, ad esempio, le zone di Sottobosco, di Arbosseto, che si possono muovere solo di poche centinaia di metri. Quindi un intervento di frammentazione di una dimensione anche di 500 metri rappresenta una barriera invalicabile per questa specie. Quindi una barriera di questo tipo separa necessariamente le popolazioni e iniziano a intervenire quei fenomeni di cui prima vi ho accennato. Invece ci sono specie che per mobilità, per capacità, per vagilità, riescono a muoversi anche di centinaia di chilometri. Quindi la costruzione di una strada può non rappresentare effettivamente una barriera. No, sono andata indietro. Allora, come si fa a intervenire? Come si fa a mantenere in connessione le diverse porzioni di territorio? Allora, le cose da avere in mente sono quelle. Cioè, per mantenere questa connettività, le cose da fare sono o cercare di aumentare il più possibile la quantità di habitat disponibile, cioè cercare necessariamente di limitare il più possibile gli interventi di frammentazione o intervenire con miglioramenti ambientali che facciano in modo di aumentare le dimensioni di habitat ed onio per le specie target che abbiamo in mente, oppure lavorare sulla qualità, cioè migliorare la qualità delle patch rimanenti. Sappiamo che necessariamente deve essere, ad esempio, costruita una strada in un determinato territorio, allora lavoriamo sul migliorare la qualità delle patch di territorio che rimangono. oppure creare elementi che possano consentire la connettività. Quindi si può lavorare con la continuità di habitat, per cui mantenere in collegamento le due porzioni di habitat principali, oppure, se questo non è possibile, lavorare con il concetto delle stepping stone, cioè delle isole di territorio idoneo a distanza tale per cui le diverse popolazioni delle diverse specie possono comunque, insomma, possono utilizzare per comunque mantenere questa connettività, questo movimento. E qui abbiamo alcuni esempi pratici. Il mantenere la connettività può essere fatto, ad esempio, con la costruzione, l'aumento degli elementi, ad esempio, gli elementi lineari del paesaggio, come le siepi, filari, sono quegli elementi che vanno via via sparendo anche dai nostri ambienti planiziali, proprio per questa sostituzione dell'agricoltura da tipo estensivo a tipo intensivo, e sono elementi fondamentali per una gran quantità di fauna, a partire dai piccoli invertebrati, agli animali che possono trovare comunque dimensioni maggiori, che possono trovare rifugio, anche rettili, anfibi, piccoli mammiferi, animali che riescono a muoversi lungo anche solo questi piccoli elementi lineari del terreno. Oppure anche tutti gli ambienti che riguardano le aree ripariali dei fiumi, questi sono elementi di continuità del territorio assolutamente importanti e da tutelare. Si può poi riqualificare ambienti, creare ambienti dal nulla, ricreare degli ambienti, o migliorare la qualità, che non vuol dire solamente migliorare la struttura di un bosco, di un sottobosco, ma potrebbe anche voler dire artificialmente andare a ricreare quegli ambienti che per la fauna sono presenti in maniera non sufficiente in una determinata tipologia di habitat. Ad esempio, se in un bosco ho necessità di avere alberi maturi e non ho una sufficiente quantità di alberi maturi, posso sopperire a questa mancanza, ad esempio andando a introdurre delle cassette nido, delle bat box, degli alberi habitat, per ricreare questi ambienti di rifugio per la fauna che sono importanti e che non avrei se non aspettando una maturazione del bosco che necessariamente è parecchio lunga. Ecco, una cosa su cui vorrei porre l'attenzione è che quando si va a progettare questi interventi di riqualificazione ambientale per il mantenimento delle connessioni ecologiche, è sempre bene seguire un approccio che sia il più possibile scientifico e quantitativo, il che significa che l'approccio deve essere basato su una raccolta di dati, su una fotografia reale di quello che è la situazione di partenza e questo significa andare a valutare la potenzialità del territorio in termini quantitativi, vuol dire raccogliere dati sulla vegetazione, sul territorio, sulla fauna, andare a definire, stimare in modo quantitativo il valore forestale vegetazionale, il valore faunistico, mettere insieme questi dati, produrre delle cartografie, cioè delle carte di biodiversità e solo in questo modo, cioè mettendo insieme dati che vengono da esperienze diverse e da professionalità diverse, si possono evidenziare quelle che sono le corerea, cioè le aree più importanti che necessariamente devono essere tutelate se si vogliono mantenere determinate condizioni per la fauna. Solo una volta che abbiamo identificato quelle che sono le aree più importanti, allora possiamo pensare allo step successivo, cioè all'identificazione dei corridoi e anche qua l'identificazione deve essere un calcolo matematico basato su dati, non un disegno dei corridoi. In questo caso per identificare i corridoi dovrò inizialmente andare a valutare quelle che sono identificare e selezionare le specie target su cui voglio lavorare, sulle specie che voglio mantenere in connessione, conoscere le esigenze ecologiche di queste specie, ad esempio le loro possibilità di movimento, di vagilità, le caratteristiche proprio di necessità ecologica e a questo punto mettendo insieme i dati, diciamo con un calcolo matematico e avvalendosi anche di strumenti come possono essere i sistemi informativi territoriali, andare a identificare quelli che sono i possibili corridoi. Tutti questi step devono essere fatti prima di pensare alla realizzazione pratica degli interventi. Per fare, ecco, che cosa è da evitare? Assolutamente l'approccio che abbiamo chiamato più pittorico, che sarebbe molto più facile, cioè mettersi davanti una carta del paesaggio, del terreno su cui vogliamo lavorare e andare a disegnare dei possibili corridoi. Questo è sicuramente un approccio da evitare perché è sicuramente un approccio molto soggettivo, non basato su, diciamo, dati, ed è soprattutto un approccio molto antropocentrico. Ciò che noi magari possiamo pensare essere un bel corridoio, in realtà può non esserlo per le specie su cui vogliamo effettivamente lavorare. E poi ovviamente bisogna fare i conti necessariamente con la realtà delle cose, soprattutto quando siamo di fronte, quando dobbiamo lavorare in presenza di ambienti fortemente antropizzati, molte volte non ci sono tante soluzioni possibili. Bisogna lavorare con quello che c'è ancora disponibile. E quindi molto spesso ci si trova a lavorare su di interventi di piccola scala, sui microinterventi. Giusto per fare un esempio degli strumenti che si possono usare, del processo di cui vi parlavo, che deve essere il più possibile scientifico e quantitativo, bisogna cercare di scomporre il paesaggio nei diversi elementi che lo costituiscono. Qui vedete ad esempio l'utilizzo su uno stesso territorio, si va a fare un calcolo sulla base di dati raccolti o comunque disponibili, del valore vegetazionale, del valore faunistico, della presenza antropica. Si mettono insieme tutte queste informazioni e poi si vanno a definire diversi scenari possibili. Qui ad esempio avete, per quanto riguarda lo stesso territorio, un esempio della diversa permeabilità di questo territorio per gruppi di fauna differenti. In alto avete il primo gruppo, che sono animali di bassa mobilità, con bassa mobilità, sono anfibi, qui vedete alcune rane, il tritone, la salamandra, per cui animali che non sono in grado di muoversi molto nello spazio e di conseguenza, a seconda dell'analisi del territorio che è stata fatta, si vede come molto spesso i passaggi, la permeabilità diventa molto difficile per questi animali. Al contrario, lo stesso territorio, ma analizzato, diciamo, con gli occhi e sapendo la mobilità di un altro gruppo di animali, per cui mammiferi a media alta mobilità, come ad esempio il tasso e la volpe, come vedete la maggior parte del territorio è indicato con i colori marrone e marrone scuro, che indica, diciamo, una maggiore permeabilità. Ovviamente, una volta che si, diciamo, mettono insieme tutte le informazioni, allora si può iniziare a identificare quelli che possono essere i potenziali corridoi e di conseguenza si può iniziare a pianificare gli interventi da realizzare per aumentare le possibilità di connessione per la fauna. Ecco, qui vedete alcuni, due esempi in particolare, di interventi di rafforzamento della rete ecologica, di interventi di defragmentazione che abbiamo seguito, qui ci troviamo in provincia di Varese. I due progetti sono il sistema Olona, che è, diciamo, una serie di interventi di defragmentazione su un'asse nord-sud, riguarda proprio la valle dell'Olona e la valle del Bozzente, per cui lungo le direttrici principali della rete ecologica, mentre l'altro progetto, chiamato White Bridge, è invece un progetto che vede una serie di miglioramenti ambientali, di interventi di defragmentazione, invece, sull'asse ovest-est, per cui sull'asse secondario della rete ecologica, in particolare tra il fiume Ticino e il fiume Olona. Ovviamente, dopo aver fatto tutti gli studi e le indagini di cui vi ho appena parlato, per cui le indagini faunistiche, le indagini floristiche e vegetazionali, dopo aver calcolato la permeabilità dei terreni e del territorio per i diversi gruppi di specie, si identificano i corridoi e poi si parte con la progettazione degli interventi. Ogni intervento, anche il più piccolo, deve iniziare da una fase di progetto, di progettazione. Qui vi faccio vedere alcune immagini della situazione prima degli interventi. In questi casi, sia nel progetto White Bridge che nell'altro progetto, si tratta prevalentemente di interventi di defragmentazione che riguardano aree umide, per cui, diciamo, zone boschive lungo i principali assi fluviali e zone corpi d'acqua di piccole e medie dimensioni. Qui vedete alcune immagini della situazione dopo gli interventi. Gli interventi, in questo caso, sono stati l'ampliamento, lo scavo di alcune zone umide che si stavano interrando, piuttosto che invece il rafforzamento di sistemi lineari con la piantumazione di siepi e filari. Qui vedete un esempio della situazione prima degli interventi e dopo gli interventi. Prima degli interventi la situazione era di una presenza di un canneto molto fitto e denso e alcuni degli interventi hanno interessato appunto l'ampliamento ad acqua, insomma, della zona libera. Ecco, in tutti questi interventi è assolutamente importante essere sicuri che gli interventi di connettività siano non solo interventi strutturali ma anche interventi funzionali. Questo significa che quando si va a definire, a identificare un corridoio e a identificare un intervento da fare, questo intervento non deve essere solo strutturale. Io non devo creare solamente un corridoio visibile ma devo creare un corridoio che funziona, che venga effettivamente utilizzato. E qui subentra l'importanza del monitoraggio. Non bisogna fermarsi alla realizzazione dell'intervento ma bisogna anche monitorare che l'intervento sia efficace e allora diventa importante andare a monitorare la situazione in questo caso sia dal punto di vista vegetazionale ma anche faunistico prima della realizzazione degli interventi. A volte serve anche fare dei monitoraggi durante la realizzazione degli interventi ma soprattutto dopo la realizzazione degli interventi e non immediatamente dopo ma anche a alcuni anni dalla realizzazione dell'intervento. Questo per verificare che l'intervento sia effettivamente efficace. Ovviamente i monitoraggi vengono fatti scegliendo alcune specie indicatrici che possono essere diverse a seconda della tipologia di intervento, alla tipologia di habitat interessata e vengono fatti applicando delle metodologie che siano rigorosamente standardizzate. Questo perché i dati devono essere raccolti con le stesse metodologie per poter poi alla fine comparare risultati e verificare che l'intervento sia stato davvero efficace. Qui vedete un altro esempio di un altro progetto. Qui ci troviamo nell'area del Pliss del Bassolona quindi in un'area assolutamente fortemente antropizzata. Ci troviamo tra Roe e Pregnana milanese quindi dove gli spazi verdi sono veramente limitatissimi. quindi è stato fatto tutto il lavoro di cui vi ho fatto vedere prima sono stati identificati i possibili varichi, le possibili aree di intervento sono stati pianificati i monitoraggi prima degli interventi questi sono alcuni degli interventi qui c'è una piantumazione di filari la realizzazione di una nuova area umida non esistente precedentemente e appunto monitoraggi prima, monitoraggi dopo per verificare l'efficacia e la colonizzazione. Un altro intervento che di solito vengono realizzati sono quelli per permettere sono i passaggi faunistici per permettere il passaggio della fauna magari in presenza di strade di elevata percorrenza. Qui abbiamo identificato una zona in cui ripetutamente si verificavano degli investimenti di piccola media fauna quindi è stato fatto un sottopasso sotto a una strada e poi con l'utilizzo di fototrappole e l'utilizzo di monitoraggi standardizzati in questo caso per il passaggio degli anfibi si è verificato appunto l'utilizzo di questo sottopasso. Finisco con poche slide perché tra gli interventi di deframmentazione ci sono anche quelli di riduzione dell'impatto stradale a volte ci troviamo in condizioni da non poter deframmentare una rete viaria ma quello che si può fare è cercare di limitare i danni quindi di limitare gli effetti degli impatti stradali impatti stradali che possono avere effetti sulle popolazioni di fauna su molte delle quali noi non abbiamo neanche percezione molto spesso perché i piccoli animali che vengono investiti non li percepiamo nemmeno mentre possono avere degli impatti anche molto forti anche sulla salute umana ovviamente l'aumento delle popolazioni di ungulati qui ci troviamo nel progetto Roadkill nella parte alta della provincia di Varese una zona, l'abbiamo vista anche questa mattina densamente forestata in cui le popolazioni di ungulati stanno crescendo in maniera diciamo veramente esagerata e quindi anche il numero degli incidenti stradali per anno qui vedete il numero degli incidenti dal 2000 al 2015 nella sola provincia di Varese sono aumentati in maniera esponenziale quindi il progetto ha previsto tutta una serie di interventi innanzitutto per identificare e quantificare il passaggio di animali di ungulati in questo caso nei tratti più a rischio identificare le aree dove posizionare questi sistemi di dissuasione e valutarne l'efficacia il sistema è abbastanza diciamo complesso perché prevede dei sensori che sono questi due che riescono a percepire la presenza degli animali selvatici nelle prossimità dell'attraversamento stradale nel momento in cui percepiscono la presenza di ungulati e questo viene fatto con dei sensori termici di movimento il sistema si mette in collegamento con dei cartelli stradali che sono alimentati con un pannello solare che avvisano il conducente della macchina che si sta avvicinando di ridurre la velocità se la velocità non viene ridotta perché c'è anche un sensore che misura automaticamente la velocità delle macchine allora parte anche quest'altro sensore che è un sensore acustico e che spaventa gli animali e li dissuade dall'attraversare qui vedete il lavoro che è stato fatto e andare sul posto individuare effettivamente i passaggi di fauna utilizzare le fototrappole per quantificare i passaggi e vedere quali specie passano diciamo in corrispondenza di questi punti qui vedete il cartello in attività vuol dire che nel bosco dove sono posizionati i sensori si stanno avvicinando degli animali selvatici il cartello avverte i conducenti di rallentare nel caso in cui il conducente non rallenta viene messo in atto anche il sensore acustico quindi diciamo questa è un'altra metodologia questi sono i risultati della situazione questi sono i dati raccolti pre-intervento quindi prima di mettere questi sensori ovviamente le fototrappole ci hanno fatto capire quali sono le specie che passano e con quale frequenza con quale numerosità ovviamente si vede che anche se sensibilmente però diminuiscono i passaggi e stiamo aspettando adesso i dati sugli incidenti per vedere se questo ha avuto un effetto anche sulla limitazione degli incidenti stradali ho concluso, volevo chiudere solo con questa slide che è forse una vicenda di cui molti di voi saranno a conoscenza perché è una vicenda che ha riguardato Milano nel mese di aprile dello scorso anno se sapete un lupo è stato recuperato dal naviglio grande di Milano era caduto nel naviglio grande di Milano a questo lupo è stato messo un collare satellitare ed è stato rilasciato nel parco del Ticino il parco del Ticino se vediamo qualsiasi cartina o foto satellitare è un corridoio faunistico evidente e diciamo involontariamente il rilascio del lupo chiamato Ambrogio proprio perché appunto è stato trovato a Milano diciamo è una dimostrazione dell'efficacia dell'esistenza di questo corridoio tutti i punti che vedete sono le segnalazioni del collare GPS di questo lupo nelle settimane successive al rilascio nel parco del Ticino e si vede questo lupo che ha fatto avanti e indietro per settimane e settimane lungo questo corridoio cioè non aveva il coraggio di spostarsi dall'asta del Ticino proprio perché il Ticino è un corridoio al di là dei lati del parco del Ticino la zona è talmente antropizzata talmente che insomma è una dimostrazione dell'efficacia di questo corridoio e questa è una dimostrazione